Ci avviciniamo alla competizione elettorale. Quali sono i punti, i progetti che volete perseguire? Noi vogliamo migliorare la qualità della vita a Torre del Greco, dando praticamente spazio a tutte le diversità. Deve passare il concetto che l'ordinarietà deve essere la base di tutto. Non bisogna passare il concetto di fare qualcosa che è ordinario e farlo passare per straordinario. Questa è la base, quindi migliorare la qualità della vita, valorizzare il territorio. Noi dobbiamo dare spazio al turismo perché con il turismo possiamo praticamente creare ricchezza a Torre del Greco ed evitare che si vada fuori Torre del Greco e Torre diventa solo un punto di passaggio e non un punto di stazionamento. Torre del Greco dunque ha bisogno di rinnovamento, di volti nuovi? Mi fa molto piacere che vedo molti giovani candidati, quindi questa è una bella cosa. Mi auguro che la cittadinanza vada a votare in modo massiccio e scelga effettivamente il cambiamento proprio per cercare di ripartire e dare un segnale non solo a noi e alla città ma anche alla regione e a tutto il paese. Noi abbiamo fatto una ricerca specifica, abbiamo prima di tutto dettato quelle che erano l'esatta descrizione del nostro candidato ideale in modo particolare un candidato che vivesse la città e che soprattutto in caso di nomina e di elezione come noi ci auguriamo avesse le capacità poi per gestire le problematiche di una città perché molto spesso magari ci troviamo di fronte a candidati che prendono tanti voti per una serie di situazioni e poi sono impreparati anche a leggere un atto amministrativo. Volutamente abbiamo scelto le pedine per poter essere pronti a un'eventuale gestione della difficile macchina amministrativa. Quindi scendono in campo professionalità e competenze. Esattamente ma soprattutto scende in campo la squadra perché noi abbiamo veramente costruito questa squadra che ripeto contiamo di portare avanti anche dopo il 14-15 maggio periodicamente assiduamente stiamo in stretto contatto anche abbiamo partecipato attivamente a quello che era il programma della coalizione portando dei temi specifici nostri sui quali sicuramente faremo valere la nostra competenza e la nostra preparazione. Perché la scelta di sostenere il candidato sindaco Ciro Borriello? Ciro Borriello è la storia che parla. Ha fatto già due legislature consigliari e ha portato una serie di modifiche a quello che era il modus vivendi di questa città a volte riuscendoci di più a volte di meno ma sicuramente come ho avuto modo di dire in altre occasioni riteniamo che abbia la capabilità giusta per imporsi in una città difficile come la nostra.